Le ultime dichiarazioni del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, sulle fonderie Pisano di Salerno sollevano un vespaio di polemiche, devono essere chiuse perché inquinano e non fanno nulla per evitarlo, le parole pronunciate a margine di un incontro con gli studenti di un liceo del capoluogo dal governatore, che però sulla possibile perdita di lavoro per i dipendenti dell'Opificio ha poi aggiunto il punto di equilibrio tra queste esigenze ugualmente vitali chi lo trova? Affermazioni che scatenano l'attacco di Severino Nappi, capogruppo della Lega in regione Campania, che accusa il governatore di soffrire di amnesie selettive. Raccontato ai ragazzi di un liceo che l'inquinamento drammatico che deriva dalle fonderie Pisano sarebbe un evento che bisognerebbe in qualche modo stroncare, ma forse vedremo, non si sa. Non ha avuto il coraggio di dire la verità, perché la verità è che lui nel silenzio generale, in piena pandemia, ha firmato un provvedimento con il quale le fonderie Pisano, una fonte drammatica di inquinamento per un pezzo importante della nostra regione, potranno stare aperte per i prossimi 12 anni. Non è questo il modo di presentarsi ai giovani da parte di un presidente di regione Campania. Non si è fatto attendere poi la precisazione dell'Ufficio Ambiente delle Fonderie Pisano, che in una nota specificato come l'Opificio di Fratte non inquini, fatto confermato dalle varie sentenze in tutti i gradi di giudizio ottenute nel corso degli anni e dai dati dei monitoraggi effettuati ciclicamente, anche dalla stessa regione e dall'ARPAC.